Si trova sui Nebrodi il comune che ricicla di più in Sicilia. Grande soddisfazione per Longi e per i suoi quasi 1.400 abitanti che battono bandiera verde. Nel 2019 infatti il piccolo centro nebroideo ha fatto registrare una percentuale di raccolta differenziata del 90,4%, dato che è ancora in crescita nell'anno in corso nonostante l'emergenza coronavirus. Ad aprile toccata addirittura quota 92,6%. È un risultato che sicuramente ci invidiano tanti altri comuni. Come amministrazione ovviamente è anche una grande soddisfazione perché ci siamo prefissati degli obiettivi che abbiamo raggiunto in pochissimo tempo. La raccolta differenziata a Longi è iniziata da parecchio tempo, da parecchi anni. Noi come amministrazione siamo subentrati nel giugno 2017, chiudendo già il 2017 con un 50% di raccolta differenziata, crescendo nell'anno 2018 al 76% circa, per arrivare al 90%, 90,4% del 2019. Comunque è un dato sempre in crescita anche vedendo i risultati degli ultimi mesi del 2020. Secondo i dati aggiornati alla fine del 2019, la media regionale ha di poco superato il 40% e mentre continuano a crescere i comuni virtuosi, ossia sopra il 65%, che da 31 del 2017 sono diventati 133, arrancano le grandi città. Messina ha chiuso il 2019 al 23,2%, Catania è ferma all'11,6%, mentre Palermo ha superato leggermente il 20%.